Ciao ragazzi, eccomi tornata con una nuova puntata di The Sims, una puntata speciale perché in realtà non era in programma e stavo pensando, visto che mancano poche puntate per arrivare al cinquantesimo episodio, pensavo di chiudere la serie o meglio, voglio iniziare la seconda stagione sempre con questi personaggi, però con i figli di Jessica quindi in questo episodio vorrei andare a far diventare anziani Jessica e Mark, visto che ormai sono un bel po' di episodi, direi parecchi episodi che li stiamo seguendo, quindi vorrei farli diventare anziani e giocare molto meno con loro e nella seconda stagione utilizzare principalmente la famiglia di Tommy, quindi Tommy, Emily e il figlio Francesco e la famiglia di Emma e poi vedremo insomma Sofia anche diventare grande, diventare una ragazza, un adolescente, poi magari trasferirsi e andare a vivere da sola e insomma volevo andare un po' a cambiare la storia, o meglio, nella seconda stagione vorrei dedicarmi maggiormente alle loro carriere cosa che alla fine in questa stagione non ho fatto più di tanto, mi sono resa conto e quindi vorrei fare, vorrei insomma dedicarmi maggiormente alle carriere dei nostri sim, seguirli anche per quanto riguarda le loro aspirazioni come primissima cosa però, prima di far diventare anziani Jessica e Mark, vorrei farvi vedere come sono andata a modificare i miei sim perché nello scorso episodio avendo tolto il materiale personalizzato in tantissimi mi avete scritto che i sim sono diventati più brutti e che non erano insomma bellissimi, avendo tolto il materiale personalizzato purtroppo è successo questo e me ne sono resa conto anche io quindi cosa ho fatto? Sono andata a scaricare qualcosina ma veramente pochissimo di materiale personalizzato ho aggiunto le ciglia finte e le acconciature, qualcosina, tutto per donna, quindi per gli uomini non ho messo niente vi faccio vedere come quindi sono migliorate diciamo e tutte le mie sim qui abbiamo Jessica che tra l'altro vi so come avete scritto nei commenti perché Jessica è tornata un'adolescente non so in realtà perché qua ha soltanto due tratti perché come potete notare in realtà è un'adulta quindi non riesco a capire perché mi dia soltanto due tratti quindi comunque questa è Jessica, non ho cambiato i vestiti perché non ho assolutamente inserito nessun tipo di abbigliamento perché se no il gioco rallenta troppo comunque potete già notare il cambiamento mettendo semplicemente le ciglia finte che fanno sicuramente un sacco di discina cioè cambiano tantissimo lo sguardo poi ho scaricato anche le sopracciglia, queste sono decisamente più naturali, mi piacciono di più e poi l'acconciatura, le ho messo questa che però guardate c'è un po' di bug, questo succede purtroppo con il materiale personalizzato comunque questo è il suo look io ho rimpicciolito anche il suo seno perché in alcune mi avete scritto che era un po' troppo abbondante quindi sono andata a rimpicciolirlo leggermente e basta in sostanza questa è la nuova Jessica qua ad esempio nel look formale le ho messo anche uno rossetto e un po' di blush e poi l'ho truccata anche nel look da festa guardate è decisamente molto più bella adesso e poi abbiamo Sofia per Sofia ho scelto questa acconciatura con un po' di onde sul finale e sulle lunghezze anche per lei non ho cambiato il look ma ho semplicemente cambiato l'acconciatura e poi le ho messo queste ciglia leggere molto molto leggere ma che sono molto carine detto questo vi faccio vedere velocemente anche come ho cambiato Emily e Emma e poi andiamo a preparare le torte per festeggiare il compleanno di Jessica e di Mark ci tengo un sacco a farvi vedere Emma perché è cambiata tantissimo in questi giorni ho giocato un po' con loro l'ho mandata in palestra ha fatto un sacco di attività fisica e come potete vedere è diventata bellissima cioè è troppo bella e ho messo anche questa acconciatura questi capelli lunghissimi si è schierita i capelli come potete vedere i capelli biondi le ho messo queste ciglia super lunghe che mi piacciono un sacco e anche un rossetto nude e questo resta il suo look quotidiano l'ho truccata nel look formale ho messo un po' di ombretto chiaro e l'ho truccata anche se non sbaglio nel look da festa esatto un trucco un po' più intenso quindi rossetto fucsia e un eyeliner più marcato mi piace un sacco come è uscita e anche il suo cambiamento notevole perché ha perso davvero un sacco di chili e poi come ultima vi faccio vedere Emily anche Emily come sempre è bellissima ho scelto per lei questa acconciatura e le ho lasciato i capelli super chiari forse questi sono ancora più chiari dei precedenti quasi bianchi e anche per lei ho messo delle ciglia e le sopracciglia naturali poi l'ho truccata nel look formale se non sbaglio esatto look formale e nel look da festa anche per lei è un trucco un po' più intenso comunque sono contenta del risultato di come essi hanno uscite e siano migliorate insomma le mie sim per i maschietti ho fatto un po' meno però loro più di tanto non sono cambiati cioè Tommy secondo me anche senza materiale personalizzato è rimasto lo stesso cioè secondo me più o meno assomiglia tantissimo a come era prima ho tolto le sopracciglia che vabbè proviamo a metterle ma io quasi quasi le lascerei così vediamo oppure dai mettiamogli queste già che ci sono lo faccio velocissimamente quindi dovrebbe averle prese in tutti i look infatti perfetto quindi iniziamo a giocare ed eccoci qua abbiamo sia Sofia che Mark fuori casa Sofia è a scuola e Mark invece è a lavoro Jessica invece oggi se non sbaglio non lavora esatto il suo giorno libero quindi direi di preparare la torta cucina e prepariamo torta al cioccolato e poi le facciamo preparare un'altra torta per Mark e prepariamo una torta bianca ed è venuta ad infornarla non so perché origami aereo Sofia si è impadronita dell'arte degli aerei di carta ed è impaziente di provare il suo originale progetto supersonico ha già finito gli esercizi e il supplente non sta guardando forse è il momento buono lancia l'aereo e aspetta la ricreazione aspetta la ricreazione dai Sofia nasconde l'aereo nello zaino fino alla ricreazione quando raggiunge il parco giochi la prua è storta e l'aereo non riesce più a volare dritto dovrà ricominciare da capo povera comunque stavo dicendo non so perché Jessica si è venuta ad infornare la torta da questa parte nel loft di Sofia che sono andata a modificare infatti come potete vedere qua ho fatto la cucina il bagno è rimasto lo stesso qui ho messo il salotto con un camino e al piano di sopra ho lasciato la sua stanza che però ovviamente ho modificato le ho lasciato la scrivania le ho messo il letto matrimoniale lo zainetto ho messo anche diverse librerie poi non so quale sarà la sua carriera lavorativa magari lo decideremo insieme ancora non ho pensato a questo e poi volendo potrà anche dipingere qualcosa mi piace molto come è uscita e non ho utilizzato niente di materiale personalizzato anche questa è pronta quindi direi metti nell'inventario perfetto sono le è mezzogiorno le hai bisogno di andare in bagno quindi vieni qui e usa Marco oggi che ora rientra da lavoro alle 17 mentre invece Sofia che non so perché ma mi è rimasta con i capelli biondi finisce alle 15 quindi c'è ancora un po' di tempo ma c'è mia che ha bisogno di essere lavata quindi rincuora per l'animale è triste allora rincuora e poi facciamo fai un bagno e poi mi avete detto che per far diventare i cuccioli adulti bisogna portarli alla clinica o comunque andare nella clinica veterinaria e acquistare la barretta quindi dopo magari lo facciamo ok ha finito di mangiare ripulisci poi andiamo alla clinica e intanto c'è Mia guardate che sta giocando con la pallina che è più grande di lei praticamente si è messa a fare un pisolino ma io direi che bisogna andare alla clinica quindi andiamo a Brindleton Bay e andiamo alla clinica andiamo da sola ed eccoci qua tra l'altro Sofia è tornata da scuola e ha preso un otto che non è assolutamente un brutto voto quindi andiamo qui e acquista articoli per animali e quindi barretta della crescita dolcetto della crescita è un dolcetto che causa la crescita del tuo animale però usa 150 simoleon però direi di acquistarlo e poi magari chiamiamo Mia vediamo se viene eccola eccola che sta arrivando adesso gli diamo il dolcetto della crescita ed è un dolcetto del veterinario dolcetto della crescita vediamo un po' come diventa ci siamo voilà Mia è passata di età la cagnolina Mia è cresciuta diventando una cagna adulta ora è in grado di nuotare salire le scale andare a fare passeggiate iniziare a imparare giochini può inoltre accoppiarsi con i cani se non è stata sterilizzata urrà per Mia sono curiosissima di vederla no vabbè cioè che spettacolo è grandissima e ha un sacco di pelo mamma mia quanto è cresciuta intanto Jessica sta dormendo quindi direi gioca vediamo poi quando Mark rientra da lavoro torniamo a casa per festeggiare i compleanni poi facciamo e altre scelte si sta addestrando parla mamma mia è cresciuta tantissimo acquisita l'abilità di addestramento di animali Jessica acquisita l'abilità di addestramento di animali potrà addestrare i cani a sedersi parlare riportare rotolarsi sdraiarsi potrà anche far vedere il suo animale ad altri sim poi facciamo altre scelte bacia ok è tornato anche Mark quindi direi di andare a casa vai a casa poi continueremo l'addestramento no vabbè che dolce perfetto siamo arrivati allora non capisco perché Sofia se ci allontaniamo i capelli se ne vanno questo è decisamente un bug quindi dovrò cambiare acconciatura perché non mi piace questa cosa purtroppo questo succede sempre col materiale personalizzato cioè tante volte può capitare questa cosa comunque direi di aggiungere le candeline aggiungi le candeline e poi di festeggiare il compleanno magari Mark vieni qui e anche tu Sofia vieni qui e poi Jessica direi di esprimere un desiderio e poi Sofia sulle candeline mamma mia sono tutti addormentati tanti auguri Jessica no vabbè Mark se n'è andato ecco qua Jessica è passata l'età l'anzianità e ti aspettano le rughe sulla pancia le ciocche grigie e i pisolini interminabili festeggia come se il mio titore non fosse proprio dietro l'angolo grazie grazie mille comunque è invecchiata la nostra Jessica ve la ricordate all'inizio quando si è trasferita a San Michuno da sola e aspirava a diventare una una blogger diciamo è intrapreso la carriera dei social media tra l'altro ha raggiunto un sacco di follower quindi è molto soddisfatta comunque ho fatto questo sono tutti parecchio stanchi quindi direi fai un riposino Mark sta facendo anche lui un riposino e Sofia anche lei dovrebbe fare un riposino quindi vieni qua e dormi poi dall'inventario prendiamo nuovamente la torta e in questo caso Mark aggiungi le candeline e poi Jessica so che sei stanca ma vieni qui anche tu Sofia vieni qui basta dormire Jessica lo stesso grazie bisogna festeggiare il compleanno di Mark quindi festeggia e poi Mark è arrivato il tuo turno soffia sulle candeline Jessica vieni qui grazie vai qui anche tu Sofia non abbandonatelo dai intanto che soffia sulle candeline e anche Mark è passato di età l'anzianità anche per lui Tommaso spedito un regalo a Mark tieni d'occhio la posta arriverà presto va bene nulla dai mangiate un pezzo di torta chiama a tavola mangiate la torta e poi andate a dormire che siete abbastanza stanchi comunque sta mangiando la torta soltanto Sofia dove è Jessica ah ok loro la stanno mangiando di qua da soli bene e facciamo amoreggia e poi magari anche un massaggio oppure si fai un massaggio però devo dire che Mark con i capelli grigi sta davvero benissimo cioè gli donano un sacco ok sono le 10 di sera vediamo un attimo le loro esigenze Mark ha bisogno di andare in bagno quindi facciamo vai in bagno e poi hai bisogno di dormire quindi dormi Jessica invece ha bisogno anche lei di dormire e anche lei ha i capelli grigi questo però si è modificato soltanto con i capelli originali del gioco infatti per quanto riguarda il look da notte ho lasciato i capelli del gioco e infatti sono diventati grigi mentre i capelli del look quotidiano sono materiale personalizzato e quindi non hanno preso la modifica non hanno cambiato colore comunque lei sta dormendo Mark finisce qua poi va anche lui a dormire e invece allora innanzitutto sostituiamo perché è rotto e anche lei ha un po' di esigenze come poveretta andare in bagno socializzare divertirsi poi vai a dormire quindi Jessica e Mark stanno dormendo nel frattempo sono andata a cambiare anche l'acconciatura di Sofia perché non sopportavo l'idea di vedere questo bug quindi le ho messo questa acconciatura capelli questo taglio sulla spalla questo taglio pari che mi piace molto e ho scelto questa acconciatura per tutti i tipi di look io direi quasi quasi che il video può anche terminare qua magari prima di chiuderlo facciamo vedere Mia a Sofia visto che è cresciuta vediamo si arriva Mia vediamo un po' dove è andata dov'è? no si sta facendo un bagno un bagno in piscina appena finito di farsi il bagno in piscina è entrata ed ha bagnato completamente tutto comunque giochiamo un po' poi facciamo accarezza e abbraccia e poi altre scelte si sta addestrando continua l'addestramento a parlare vediamo e poi chiudiamo l'episodio è quasi più grande di lei si può dire e poi magari dai Sofia gioca nella puzza con Mia dai vediamo cosa succede e poi andiamo a dormire no vabbè che tipe due pazze dai asciuga adesso anche Mia si diverte un sacco ok possiamo interrompere l'addestramento visto che sono le tre di notte accarezzala poi cosa abbiamo detto abbracciala e poi direi vai a dormire che è tardissimo e chiedi di sdraiarsi a Mia e poi vai a dormire no che bene è sporchissima tra l'altro bisogna anche di un bagno però questo ormai lo facciamo domani ok eccola qua niente dai io direi che questo episodio può anche terminare qua spero come sempre che il video vi sia piaciuto vi invito a mettere un bel pollice in su per supportare la serie fatemi sapere qua sotto nei commenti se vi piace l'idea di interrompere di terminare questa prima stagione al cinquantesimo episodio e di iniziare la nuova serie la nuova stagione dedicandoci completamente alla vita di Tommaso di Emma e di Sofia insomma i tre figli di Jessica e Mark spero di avervi tenuto compagnia vi mando un grandissimo bacione noi ci vediamo prestissimo con un nuovo video ciao 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 ciao